Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Salvini arriva a Pesaro, comizio alle 19 in piazza e poi cena con oltre 500 invitati in piazzale Lazzarini invece il movimento delle Sardine presente anche il suo fondatore Mattia Santori Coltiva cannabis in casa, la polizia lo scopre, lo arresta, finisce nei guai un operaio 37enne con precedenti Un 75enne di Pesaro muore sul colpo dopo essere caduto dal tetto della sua abitazione nel quartiere di Pantano Il movimento 5 Stelle espelle Francesca Frenquellucci, ex candidata a sindaco ed ora neoassessore all'innovazione La regione Marche dice no alla telefonia 5G, approvando una mozione dei Verdi sui rischi della nuova rete Ecco però cosa ne pensano i cittadini e gli utenti Oggi giovedì grasso, grande festa in piazza Fano con laboratori, musica e tanto divertimento Buonasera, benvenuti cari telespettatori a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV sul canale 17 Visibile in tutte le Marche Allora lo avete sentito nei titoli di apertura a Pesaro è arrivato Matteo Salvini E quindi noi anche per dar conto di ciò che è accaduto in piazzale Lazzarini con le Sardine Abbiamo mandato a Pesaro il nostro inviato Francesco Salvago che vedo già in collegamento Allora Francesco raccontaci un po' questo pomeriggio pesarese, Salvini ha dato il nome del candidato del centrodestra alla fine poi? Buonasera da Piazza del Popolo, è appena terminato come vedete alle mie spalle il comizio del leader del Carroccio Matteo Salvini Che è stato appunto accolto da una platea veramente numerosa qui in piazza Ovviamente non si è sbilanciato sul nome del candidato per la campagna elettorale delle prossime appunto regionali qui nelle Marche Non si è sbilanciato neanche sul nome appunto di Francesco Acquiroli Nonostante appunto le varie domande dei cronisti, dei giornalisti che le abbiamo appunto rivolte Ovviamente appunto per questo sentiamo subito l'intervista che abbiamo realizzato nel servizio A me i marchigiani chiedono il cambiamento, mandare a casa Ceriscioli, il PD con una squadra e un progetto seri Quindi il nome del candidato arriverà prima, devono arrivare il progetto e la squadra E le priorità sono evidenti, sanità, infrastrutture, sostegno al commercio, all'impresa C'è un territorio stupendo che però dalla politica e dalla sinistra è stato trascurato in questi anni Conte dovrebbe preparare gli scatoloni e andare a casa Perché stanno ingessando, bloccando l'Italia con i loro litigi e con loro nulla E' tutto fermo, l'unica cosa su cui si sono messi d'accordo è mandarmi a processo Però le marche e l'Italia non hanno bisogno di Salvini a processo Hanno bisogno di strade, autostrade, aeroporti, ferrovie, riforme della scuola, della giustizia, del lavoro, delle tasse Questi sanno solo litigare se avessero dignità, conte in primi se tutti gli altri andrebbero a casa Quanti candidati ci saranno? Dove? Per le marche Centrodestra uno, poi la sinistra non lo so Un giovedì sera, bello freschino, in Piazza del Popolo a Pesaro Qua mi sa che c'è qualcuno nell'ufficio del signor Riccio, del signor Ceriscioli Che inizia ad aver paura e a fargli scatoloni per andare a casa Dunque queste sono le parole del leader Salvini Intanto sul palco di Piazza del Popolo sono stati affrontati altri temi Insieme ai vari militanti della Lega e i parlamentari marchigiani Tra cui Salvini rivendica il diritto di rendere accessibile alla città sempre più per le persone disabili Stiamo facendo una battaglia, dice, per la lingua dei segni e anche per la TV Per agevolare i non udenti Poi una battuta sempre riferita al governo Il dramma del governo, dice Salvini, litiga su tutto Nelle marche sono fermi 13 milioni di euro sui lavori di autostrade, sulle infrastrutture Sia per la regione Abruzzo che per le marche Difenderemo, dice, quota 100 E se questo non avverrà faremo delle barricate sia dentro che fuori i palazzi di governo E poi nelle marche ha rimarcato il problema, quello centrale Che è legato alla sanità e la lista di attese molto lunghe Inoltre una riflessione, soprattutto un pensiero molto importante Quello di far ripartire la regione dal punto di vista dell'imprenditoria Sia dal punto di vista del mare ma anche l'imprenditoria dei commercianti Bisogna fare riaprire, dice Salvini, i negozi E soprattutto puntare sul lavoro, sul commercio e sulle infrastrutture Questi sono i temi che sono stati trattati dal palco di Piazza del Popolo Per il momento è tutto, restituisco la linea a Fano Adesso mi sembra che tutto si sposti nel sito dove si farà la cena Rimani collegato con noi perché ci ricollegheremo con te in chiusura di telegiornale Per appunto raccontarvi attraverso la sua testimonianza Ciò che è successo anche in Piazzale Lazzarini E poi, hai visto mai che durante la cena Salvini non si sbilanci? Ripartiamo dalla cronaca Gli uomini della squadra mobile della questura di Pesaro Hanno arrestato un operaio pesarese di 37 anni Già condannato per fatti di droga circa una ventina di anni addietro Sospettato di aver avviato una coltivazione casalinga di cannabis Indica destinata poi alla cessione allo spaccio Ieri pomeriggio gli agenti hanno rinvenuto Quindi in una perquisizione nella sua abitazione Due serre per la coltivazione della cannabis Sumunite di ogni dispositivo possibile alla coltivazione Compresi anche luci alogene, impianto di aspirazione, fertilizzanti, semi e materiali vari Nella perquisizione inoltre sono stati trovati e sequestrati alcuni pezzetti di asci Circa 250 grammi di infrescenze essicate Pronte quindi alla cessione E un bilancino elettronico di precisione Nella mattinata odierna si è celebrato il rito per direttissima E all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto Il giudice del Tribunale di Pesaro lo ha condannato Alla pena di un anno e due mesi di reclusione Ed una multa di 3.000 euro Ma la pena è stata sospesa Continuiamo con la cronaca Purtroppo un 75enne è precipitato nel vuoto dal tetto di casa sua Rimanendo ucciso sul colpo È accaduto poco dopo le 8.30 di questa mattina Pesaro nel quartiere di Pantano In via Bruscolini Un volo di oltre 10 metri Che non ha lasciato scampo all'anziano Subito soccorso dai sanitari del 118 Ma che nulla hanno potuto fare per lui Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco E una volante della Polizia di Stato Che ora sta indagando sull'accaduto Ma sembra dalle prime risultanze Che non ci siano dubbi sulla volontarietà del gesto Dunque Salvini in piazza a Pesaro E Sardine in piazzale Lazzarini Ma continuiamo sull'onda della politica Parliamo sempre a Pesaro di Francesca Fenquellucci Che è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle Faceva parte appunto del gruppo di candidati a sindaco Per le scorse comunali Matteo Ricci l'ha voluta nella sua squadra L'ha nominata assessore con delega all'innovazione Però questo le è costato il posto nei 5 Stelle Lo ha annunciato lei stessa in un messaggio postato su Facebook Sentiamo proprio le sue parole Ieri sera ho ricevuto questa mail Dove mi dice che sono stata espulsa dal Movimento 5 Stelle È chiaro che sono avvilita, mi dispiace tanto Perché in questi mesi, anzi in questi anni Ho lavorato e tutti gli attivisti sanno di quanta passione E impegno ho messo per il Movimento 5 Stelle Ci ho sempre creduto E quello che non riesco a capire è come è stata presa questa decisione Anche perché dalla mail che avevo mandato Che mi si chiedeva di appunto presentare le mie memorie difensive Non è stato aperto il link Quindi io non riesco a capire cosa sia successo Spero di riuscire ad avere un confronto diretto Dove io posso portare chiaramente tutta la documentazione E poi chiaramente cercherò di fare ricorso al comitato di garanzia Quello che mi preme dire è che qua a livello locale Il Movimento 5 Stelle Pesaro ha sempre lavorato sui temi, gli argomenti Siamo stati anche quelli che a livello regionale abbiamo fatto più eventi Dalla piattaforma Rossoco Abbiamo sempre fatto tutto nei valori e nei principi del Movimento 5 Stelle Questo laboratorio che è nato a ottobre non è stato tenuto nascosto a nessuno Perché abbiamo lavorato e collaborato insieme Ci sono state conferenze stampa, visite fino al Ministero Dove hanno partecipato anche deputati del Movimento 5 Stelle E poi oltre ad aver lavorato sui progetti concretamente finalmente Ed essere riusciti a far tornare la maggioranza indietro Su delle decisioni che andavano vicino agli ideali del Movimento 5 Stelle Io credo che questo già era una grande vittoria Se poi tutto il problema è nato perché mi è stato dato questo assessorato Ancora di più non capisco il perché Perché io la mia serietà l'ho dimostrata in questi mesi Nel momento in cui mi è stato richiesto per la terza volta di entrare a far parte della Giunta A quel punto ho in assemblea, ho fatto presente Mi sono arrivate tantissime telefonate Dove tantissimi attivisti Ma gli attivisti quelli veri, quelli attivi Quelli che c'erano, che partecipavano Tutte queste persone erano d'accordo Ed erano felici che io andassi avanti E dicevano ti controlleremo di più sicuramente Però noi portiamo avanti i nostri valori E stai facendo un ottimo lavoro perché stai pensando al bene dei cittadini Non capisco perché a livello nazionale Non abbiano fiducia di noi che stiamo lavorando concretamente Combattendo, anche litigando ai tavoli Discutendo, ma cercando di arrivare a un lavoro condiviso Sempre e solo per il bene dei cittadini Bene, questo è quanto accade a Pesaro per i pentastellati Mentre a Fano i 5 Stelle continuano a stare all'opposizione Anzi rincalzano perché è di queste ore L'annuncio di una mozione che è stata lanciata insieme a Bene Comune Sulle perdite occulte dell'acqua E quindi qualcosa che vogliono focalizzare Perché sembra che se viene approvata in ambito di Ato Una nuova tabella di ritarifazione per le perdite occulte Saranno dolori per gli utenti che avranno questa perdita Sentiamo i particolari appunto proprio da loro Dai 5 Stelle e da Bene Comune Abbiamo praticamente saputo che l'attuale Presidente Che è cambiato rispetto a quello che c'era precedentemente Ha riportato comunque una identica proposta Che riguarda un regolamento che dovrebbe Secondo noi Peggiorare la situazione dei cittadini Che si dovessero trovare ad avere delle perdite occulte Quindi inconsapevoli nell'acquedotto Nella parte che va dal contatore fino alla propria abitazione Aset è una società pubblica E quindi dovrebbe avere al primo posto come priorità La tutela dei cittadini Invece da quello che si evince Studiando meglio la proposta del nuovo regolamento E che verrà tutelata l'azienda Speriamo insomma che il nostro sindaco Sia consapevole di quello che va a votare E soprattutto che sia contrario Si dica contrario Quindi abbiamo fatto questa mozione Che speriamo di non discutere troppo in là E così vedremo anche il ruolo Che la Giunta ha intenzione di giocare In questa situazione Oggi un cittadino che non per colpa sua Dovesse avere una perdita di acqua E ovviamente se ne accorge in genere Quando gli arriva la bolletta Oggi è fortemente tutelato Perché fino a 3600 metri cubi di perdita Non deve pagare assolutamente nulla Se poi invece ne ha addirittura di più Quindi una grossissima eccedenza Deve pagare qualcosa Ma abbastanza limitato Se passasse questa sciagurata ipotesi Succederebbe che anche quelli Che aderiscono a un fondo di tutela Diciamo Di qualche euro all'anno Cosa da poco Ma anche quelli Subirebbero un esborso Anche entro i 3600 metri cubi Che oggi sono completamente coperti Di cifre rilevanti Facciamo un esempio pratico 2000 metri cubi di perdita Oggi il cittadino non pagherebbe nulla Se invece passa questa delibera Dovrebbe tirar fuori 5230 euro E' un'ammazzata vera e propria Supponiamo che la perdita sia maggiore 4000 metri cubi Oggi è tutelato in maniera forte Perché tirerebbe fuori Non è una cifra da buttare via Ma insomma 514 euro Ma con la nuova delibera Passiamo a 10.459 euro Una cosa folle Sono cifre che auspichiamo Che nessuno Nessun cittadino Deba tirare fuori Perché veramente E' un salasso insopportabile Ora che Una azienda pubblica Voglia fare Profitti Sui cittadini sfortunati Che hanno appunto L'occasione di perdere acqua E' veramente incredibile Allora questo è Naturalmente Specifichiamo che I 5000 euro E i 10.000 euro Sono per quelli Che non aderiscono O non hanno aderito Al fondo di tutela Comunque Anche in caso di Come avete visto Nella tabella Adesione al fondo Si passa Da 500 A 1000 euro Che comunque Non sono Non sono bruscolini Come si dice Allora Cambiamo argomento Parliamo di telefonia Di nuove reti Si sta parlando Da tanto tempo Della famosa 5G Che dovrebbe arrivare Sul mercato E aprire Nuovi orizzonti Ma Nelle marche Si è aperta una discussione E In consiglio regionale E' passata Una mozione Dei verdi Focalizzata Proprio Sui danni Che questa rete Eventualmente Potrebbe Causare E quindi C'è stato Uno stop Uno stop Una presa Di posizione Decisa Da parte Del consiglio Sentiamo tutto Nel servizio Di Francesco Salvago Approvata La mozione Del consigliere Regionale De Verdi Sandro Bisogni Contro la tecnologia Di comunicazione 5G Che nell'ambito Della telefonia mobile Risulta essere La quinta generazione Successiva Rispetto a quello Di quarta Una delle caratteristiche Principali Di questa rete E quella Di permettere Molte più Connessioni Contemporanee Fra i device Con alta velocità Arrivando fino a 10 Gigabyte per secondo A tempi di risposta Molto rapidi La nuova rete Di sperimentazione Dal 2017 Potrebbe causare Potenziali rischi Per l'uomo Si legge In una nota Difusa dal consigliere Che il 5G Opererà su frequenze Più elevate Rispetto a quelle Finora Utilizzate Dai sistemi Di radiotelefonia E renderà Necessarie L'installazione In area urbana Di numerosi Ripetitori Con aumento Inevitabile Della densità Espositiva Intanto Cresce Le preoccupazioni Di molti Sindaci italiani E aumentano Le sentenze Che riconoscono La correlazione Tra elettrosmog E cancro Quando ci si trova Esposti A una condizione Cumulativa Di frequenze Il consigliere Regionale De Verdi Attraverso La sua mozione Applicato Il principio Di precauzione A fronte Della decisione Di sperimentare In Italia La nuova banda Su 4 milioni Di italiani Senza autorizzazione Preventiva Di alcun Comitato etico Lo scopo Della mozione Impegna Giunte Presidente Regionale A lanciare Una campagna Di informazione Pubblica Affinché i cittadini Siano messi Al corrente Dei rischi Che corrono Utilizzando i cellulari In modo inappropriato Perché non installarlo Sì dai Io sono Pro Anche gli effetti Possono creare Anche degli effetti Sulla salute Sì dai Adesso Non lo so Ma Non credo sia Una cosa Così Grande Quindi bisognerebbe Sempre più Sviluppare la tecnologia Io sono sempre A favore Dello sviluppo Della tecnologia Chiaramente Compatibilmente Con quelle che sono I valori etici I valori sociali Sul 5G Non sono così Tanto informato Anche sugli effetti Della salute Però non penso Che ci siano Così grandi Controindicazioni Insomma Quindi sono Molto a favore Si può fare Secondo me Sì Tanto Siamo passati Dal 3G Al 4G Perché non dovremmo Passare al 5G Ci stiamo migliorando A livello di linea fissa Anche a livello mobile Dai Quindi agevolare Sempre di più la tecnologia Sì è giusto È giusto Non dovrebbe cambiare Perché già abbiamo Il 3G Il 4G Appunto Attivi Basta e avanza Adesso non lo so Questo 5G Se può essere conveniente Oppure no Beh Stavremo a vedere Intanto ci tuteliamo Un pochino Forse un attimo Ci freniamo E poi si vedrà Insomma Ecco Ma poi ci adegueremo Sicuramente Ultimo impegno Contemplato Nella mozione Riguarda l'ARPAM Chiamata a rilasciare Pareri sulle installazioni Con tecnologia 5G E acquisire preventivamente Le indicazioni Delle autorità sanitarie Competenti Sui relativi rischi Possibili Per la salute Della popolazione Bene Vedremo E intanto Apriamo la pagina Del carnevale Iniziamo Da una Una festa Un party Che riscuote Sempre anno per anno Grande successo Frequentatissimo Ed è il party Il carnival party Organizzata dal Rotaract Valle del Metaro Una festa Un party Però A grande sfondo Benefico Sentiamo Quest'anno Che cosa hanno pensato Gli organizzatori Sentite Come ogni anno Torna il Carnival party Organizzato dal Rotaract Valle del Metaro Quest'anno Una location Tutta nuova Ovvero Chilometro 25 Nella zona industriale Di Bellocchi L'appuntamento È fissato per Sabato 22 Alle ore 20 e 30 Quest'anno Abbiamo scelto Un tema Un po' particolare Ovvero Serie tv Film Cartoon Fumetti Eccetera Quello C'è da sbizzarrirsi Al meglio Avete già Chiuso Le iscrizioni Allora Ovviamente Le iscrizioni Ancora non sono Chiuse C'è ancora Un po' Di posto Di conseguenza Frettatevi a prenotare Per farlo Ci sono tutti i riferimenti Nella nostra pagina Facebook Allora Come sempre A sfondo Benefico Ma anche con Un'immagine pubblica Perché avete tanti Tanti patrocinio Esatto Esatto Anche quest'anno Abbiamo detto prima Abbiamo ancora posti disponibili E anche poi per il Dopocina Bene Quindi con questi ragazzi Facciamo due cose buone Ci divertiamo E poi facciamo anche Del bene Continuiamo a parlare Di carnevale Perché oggi Tutti sanno Che è giovedì grasso Un passaggio importante Per il periodo Carnascialesco Perché Si accentua un po' Il divertimento Tanti gli appuntamenti In piazza Anche a Fano Che ha seguito per noi Filippo Pucci Vediamo Che cosa è successo In piazza a Fano Un giovedì grasso Speciale Per i tanti bambini Che questo pomeriggio Hanno invaso Il centro storico di Fano Per l'ormai Tradizionale appuntamento Legato ai festeggiamenti Del carnevale Piazza 20 Settembre Si è trasformata In un vero e proprio Luna Park Con numerose attività Di svago E divertimento Messi a punto Dall'ente carnevalesca E dallo studio Cappartone Anche oggi Siamo baciati dal sole Proprio Siamo fortunatissimi Perché questo carnevale È fortunato Invito comunque Tutti Tutti i bambini Anche i genitori All'ultima sfilata Di carnevale Domenica 23 Poi lunedì 24 Avremo alle 18 Il consiglio comunale Del carnevale Alla sala del consiglio Martedì chiudiamo Con il grande rogo Del pupo Qui sempre in piazza Grande soddisfazione Dunque degli organizzatori Che cercano sempre Di avvicinare i più piccoli Alla manifestazione Più antica E dolce d'Italia È bellissimo È meraviglioso Lo facciamo Facciamo tutto questo lavoro Solo per vivere Questo momento Io e la mia collega Valentina E siamo veramente contente Anche grazie Alla carnevalesca Che tutti gli anni Ci lascia libere Di poterci esprimere Come meglio Crediamo E vogliamo Ma l'evento Ha preso già il via Dalle ore 15 Con la sfilata Delle mascherate Lungo il corso Accompagnate dal carro I giovani Motore e colore del mondo Del liceo Nolfi Appolloni Seguito da 4 mini carretti In miniatura E uno degli studenti Della scuola Gandiglio Carretti totalmente bianchi Colorati poi Dalla fantasia E spensieratezza Dei bambini A conclusione Altri due piccoli carretti Realizzati Da due giovani fan Del carnevale Uno proveniente da Fano Dedicato ai corrieri E i loro pacchi consegna Mentre l'altro da Pesaro Con raffigurato Peter Pan Visto il tema Dell'ambiente Di questa edizione Del carnevale Entrambi gli autori Del carro Hanno deciso Di trenarlo A bordo Di un trattore elettrico E uno pedale A conclusione Della giornata La presidente Dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli Ha ricevuto Dal sindaco di Fano Massimo Seri La fascia E le chiavi Della città Che ha poi consegnato Al sindaco Del carnevale 2020 Andrea Giomaro Mi hanno detto Devi fare il sindaco Ma io non so In cosa consiste Ma no no Devi fare Intanto una seduta Di consiglio E nominare gli assessori E quello si può fare Puoi andare a qualche veglione A mangiare E quello va bene Lo posso fare E basti Volevo cambiare il mondo Ma non ho detto No no Solo queste due cose Devi fare E faccio solo questo Ma vorrei dire una cosa A Massimo Seri A te sindaco Io ci metto la fascia Ci metto la fascia oggi Capito? Bene Questo è quello che accadeva In piazza a Fano Oggi pomeriggio Ma ritorniamo A Pesaro Perché Penso che la troupe Si sia spostata Riaprite il collegamento Con Francesco Salvago Ancora In collegamento Dove sei? Ti sei spostato Immagino Sì Riprendiamo la linea Da Baia Flaminia Ci siamo spostati Nell'hotel Flaminio Perché Si svolgerà Tra pochissimo La cena Con il lidere Del carroccio E tutti I simpatizzanti Della Lega Possiamo dirti Che I posti prenotati Sono sold out Tutti esauriti E sono quasi 500 Le persone Che Svolgeranno La cena Insieme A Matteo Salvini Riprendendo Diciamo Il discorso Di Piazza Del Popolo Ovviamente Prima del Comizio Del Del leader Si è svolto Una Contro Manifestazione A una decina Di metri Dalla piazza Nello specifico In piazzale Lazzarini Dove Le sardine Hanno realizzato Un flash Mob Portando avanti Lo slogan Le Marche Non si legono Cudiuvati Dal leader Nazionale Del movimento Mattia Santori Che abbiamo Intervistato Lo sentiamo Poi in linea Allo studio Abbiamo fatto Conviene avere Un candidato Unitario Quindi più Che il candidato Avere un programma E dei contenuti Che uniscono E ripartire da lì Per poi trovare Un candidato Che unisca Tutte le forze Della sinistra Fondamentalmente Diciamo che la mia agenda Non è comodissima Ma soprattutto Io conto molto meno di Conte L'agenda di Conte Si complica ogni giorno di più Quindi stiamo aspettando Una data Ma se sarà Sarà un incontro Molto informale Ogni regione Come abbiamo capito In questo tour Del sud Del nord Ha delle peculiarità E quello che ci siamo detti È trovare la forza Di un grande movimento Di partecipazione All'interno Di un dibattito elettorale Che sappiamo Sarà su toni Molto accesi Si giocherà Sul terremoto Si giocherà Sulla sanità Si giocherà Sul lavoro Quindi riprendere Questi temi E riappropriarli In maniera appropriata Per la politica Bene Grazie Francesco Ringraziamo Francesco Salvago E anche l'operatore Stefano Barnesi Per questo collegamento Così esaustivo Su questo pomeriggio Pesarese A tutta politica Però prima di Lasciarci Vi ricordo Che ci sono Tanti appuntamenti Soprattutto anche Per il carnevale Partiamo da quello Della domenica Pomeriggio Perché come sempre Faremo la nostra diretta E quindi per l'ultima Giornata di sfilate Diretta Su Fano TV 23 febbraio A partire Dalle ore 15 Poi però Sempre nella giornata Di domenica Come ormai Consuetudine Avremo l'appuntamento Con il processo Al carnevale Eccolo qui Alle ore 21 In diretta Sulla canale 17 Saremo qui Per la terza volta E per fare Una po' Una chiusura Di questa edizione 2020 Del carnevale Ma Proiettiamoci Anche nella prossima Settimana Lunedì Arriva naturalmente Primo cittadino E per primo cittadino Del lunedì prossimo Abbiamo Massimo Seri Il sindaco Di Fano Che torna Sulla scrivania Del telegiornale Insieme a Simona Zonghetti Per intervenire In diretta Avete a disposizione Come sempre Il numero fisso 0721 861433 Oppure Potete mandare Messaggi Tramite sms Oppure whatsapp 338 4968 250 Il numero Da utilizzare Bene Siamo arrivati in fondo Grazie per essere stati In nostra compagnia Vi ricordo Che a seguire Il telegiornale Ci sarà una nuova puntata Di guarda chi c'è E poi Una prima Una prima assoluta Prima visione Del film fanese Dal titolo La famiglia Ordonselli È una strana macchina Quella del Sigeni Benissimo Vedremo di che cosa Si tratta Sicuramente Ci saranno Da fare Anche risate Bene Questo è tutto Grazie per essere stati In nostra compagnia L'informazione torna Domani mattina Puntualmente Alle ore 7 Con occhio ai giornali Arrivederci E buona visione Dei nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti